Il sistema delle partecipazioni statali, che era questo colosso che gestiva l'industria italiana, entra in crisi a metà degli anni Ottanta e si decide un piano massiccio di dismissioni. Lo Stato decide in sostanza di liberarsi di quelli che ritiene essere diventati ormai i rami secchi del proprio sistema produttivo. Purtroppo fra questi rami secchi viene individuato anche lo stabilimento di Tal Sider di Savona che diventa improvvisamente un qualcosa che non serve più, che non crea più la produttività che si attende lo Stato. A questo punto viene decisa la dismissione e viene decisa la vendita dello stabilimento ai privati. Si materializza una società composta da imprenditori piuttosto noti, savonesi, faccio per tutti il nome di Dele Piane, che all'epoca era oltretutto Presidente dell'Unione Industriale, quindi avrà il doppio ruolo di proprietario dell'OMSAV e di Presidente dell'Unione Industriale. Dele Piane insieme ad altri soci decide di fare l'offerta per assumersi la responsabilità di portare avanti questo stabilimento attraverso una società appositamente costituita che si si chiama OMSAV. L'operazione va in porto in tempi abbastanza rapidi, ILVA Gestioni Patrimoniali vende per 300 milioni di lire, di vecchie lire lo stabilimento a OMSAV, attenzione, vende solo il ramo d'azienda ma non le aree, le aree che sono in grande parte demagnali e peraltro la concessione dei mandiani non è stata in quel momento neanche rinnovata e l'altra porzione di aree, 33 mila metri quadrati, che sono quelle sulle quali poi agiranno gli imprenditori per l'operazione immobiliare, sono date incomodato d'uso, poi si capirà perché, nello svolgimento dell'operazione si capirà perché è semplicemente incomodato d'uso. Quindi l'OMSAV subentra, lo Stato dà ossigeno alla fabbrica facendo convergere sull'OMSAV finanziamenti per 3 miliardi e 500 milioni di lire di allora e fa arrivare anche all'OMSAV commesse che evidentemente aveva l'Ital Sidera all'epoca che erano state bloccate per via di questa operazione di smissione, ma che erano rimaste in circolo, le fa avere all'OMSAV, quindi ci sono tutti i presupposti perché dalle ceneri dell'Ital Sider attraverso l'OMSAV rinasca la siderurgia savonese. Purtroppo le cose non vanno così, perché nonostante l'OMSAV sia gestita da imprenditori di successo, indubbiamente di successo, questi imprenditori fanno una serie di operazioni sciagurate che nel giro di 3 anni portano al fallimento dell'OMSAV. Grosso modo un anno dopo la partenza di OMSAV si costituisce la società Orsa 2000 con gran parte degli stessi imprenditori impegnati in OMSAV. Questa società Orsa 2000 nasce con l'intento dichiarato di dare una nuova, di creare un nuovo utilizzo per le aree, per quella porzione, per quei 33 mila metri quadrati di aree che OMSAV ha incomodato d'uso. Quindi gli imprenditori che sono nell'OMSAV sono gli stessi della società Orsa 2000 che sulle ceneri dell'OMSAV vuole realizzare una speculazione immobiliare e questa è una cosa straordinaria, veramente. Al che i lavoratori si domandano, quello che ci domanderemo noi, ma com'è possibile? Noi stiamo lavorando su una fabbrica che agisce su aree incomodato d'uso, su queste aree incomodato d'uso gli stessi imprenditori che ci stanno dando lavoro pensano di realizzare un'operazione turistica immobiliare, c'è qualcosa che non funziona. Questi imprenditori come la spiegano? La fabbrica continuerà a lavorare sulle aree demagnali, che sono la porzione più grande e vicino su queste aree che abbiamo incomodato d'uso realizziamo la nostra operazione turistico residenziale. Il problema è che la concessione delle aree demagnali non è stata nemmeno ancora rinnovata. Se l'OMSAV fosse fallita, come poi è accaduto, fosse stata proprietaria di quelle aree, le aree sarebbero rimaste invischiate nel fallimento e non si sarebbero più liberate. Evidentemente, questo è il sospetto della Procura, del Procuratore Renata Quarone di allora, erano state date incomodato d'uso perché si sapeva già che l'OMSAV sarebbe stata fatta fallire e quindi era necessario tenere le aree libere dal fallimento. Ecco la spiegazione del comodato d'uso. Nasce anche un consorzio con l'obiettivo di progettare un nuovo utilizzo di queste aree, incominciano il consorzio Vecchia d'Arsene Orsa 2000 a immaginare quello che potrebbe succedere su queste aree, la trasformazione che potrebbe realizzarsi. C'è un problema però che queste aree per il piano territoriale di coordinamento della provincia e per il piano regolatore comunale hanno una destinazione produttiva, quindi il problema di questi imprenditori è che gli amministratori pubblici cambiano questa destinazione d'uso perché se resta produttiva tu non puoi farci alberghi a residenza. Allora si mette in moto la politica e in tempi relativamente brevi, si creano i presupposti sia nel piano territoriale di coordinamento sia nel piano regolatore comunale, si creano i presupposti affinché la destinazione d'uso di queste aree venga cambiata, viene cambiata da aree produttive ad aree turistico-residenziali e questo è un passaggio già fondamentale per gli imprenditori, perché poter costruire un residence o un albergo su quelle aree, che sono aree facciate al mare, sono le aree di maggiore pregio della città, è un bell'affare, anche perché nel frattempo Orsa 2000 le ha comprate quelle aree, le aree date in comodato d'uso a Omsa vengono acquistate da Orsa 2000, vengono acquistate per 3 miliardi e 500 milioni, una cifra che poi una perizia del Tribunale definirà assolutamente irrisoria, secondo i periti del Tribunale quelle aree valevano almeno 15 miliardi, quindi vendute a un prezzo 4 volte inferiore a quello di mercato, anche la destinazione turistica-alberghiera rende, ma non abbastanza per quanto immaginano questi imprenditori, quindi è necessario un ulteriore passaggio, è necessario che nella destinazione turistica-alberghiera appaia la parolina residenziale e la parolina appare, ovviamente questo apre prospettive di guadagno enormi per gli imprenditori. La Procura di Savona si insospettì per questa operazione, innanzitutto per i soldi che arrivavano dallo Stato in maniera assolutamente per i procuratori di allora ingiustificata, le partecipazioni statali smantellavano e mentre smantellavano davano soldi ai privati per rilanciare l'Italsida, era una cosa un po' strana, eppure di soldi ne arrivavano, tant'è vero che fra le ipotesi di reato che la magistratura aveva individuato c'era l'appropriazione in debita ai danni dello Stato, il Procuratore si chiedeva se era giusto che lo Stato facesse confluire questi fondi all'OMSAV. L'altra ipotesi di reato era la bancarota fraudolenta, bancarota fraudolenta perché? Perché secondo il Procuratore della Repubblica di allora questo fallimento era stato un fallimento a roleggeria, un fallimento provocato per liberare le aree e creare i presupposti per operazioni immobiliari che poi si realizzò. Questa inchiesta della Procura partì nel 1993 in maniera abbastanza casuale, perché partì da un esposto anonimo, presumibilmente di un funzionario dell'OMSAV di allora che aveva visto tutto, che conosceva i conti, arrivò questa lettera alla Procura della Repubblica che segnalava appunto come questa fabbrica in due anni si fosse mangiata tutto il patrimonio che aveva in maniera assolutamente scelerata. Da questo esposto anonimo il Procuratore iniziò un'indagine, ascoltò una serie di personaggi, i protagonisti dell'operazione come persone informate sui fatti, quindi non indagate formalmente, non iscritte nel registro degli indagati, semplicemente incominciò a fare un giro di orizzonti e affidò alla Polizia un'opera investigativa. La Polizia consegnò al Procuratore della Repubblica una serie di annotazioni che sono poi le annotazioni di cui ero venuto in possesso e che mi sono servite per scrivere il libro. Da queste annotazioni a me emerge un quadro veramente sorprendente di quanto c'era dietro questa operazione immobiliare, perché praticamente era un'operazione immobiliare che metteva d'accordo tutti, metteva d'accordo gli imprenditori, le amministrazioni pubbliche, comune, provincia, le cooperative rosse che come al solito a Savona avevano grande parte di… avevano una partecipazione in queste società, coinvolgeva il sindacato, in particolare la CGL, coinvolgeva tutti i soggetti più importanti della città, coinvolgeva le istituzioni, coinvolgeva le Unioni Industriali, perché uno degli imprenditori, come vi dicevo, delle piene era Presidente delle Unioni Industriali, coinvolgeva addirittura la Camera di Commercio, perché il Presidente allora della Camera di Commercio, Andrea De Filippi, era in qualche modo coinvolto nel Consorzio Vecchia d'Arsana, quello che vi spiegavo presentò il progetto di riqualificazione, c'erano tutti dentro, questa inchiesta alla fine non approdò a nulla, non approdò a nulla perché curiosamente il procuratore che la conduceva, Renato Acquarone, fu promosso e diventò giudice della Corte di Cassazione e partì da Roma, ovviamente Acquarone lasciò comunque il fascicolo nel suo ufficio, sulla sua scrivania, fascicolo che nessuno raccolse e siccome questa inchiesta era scaturita da un esposto anonimo, per legge questo tipo di inchieste devono essere distrutte dopo il quinto anno dall'avvio delle indagini, devono essere mandate al macero e con puntualità svizzera, non riconoscibile in nessun tribunale italiano, dopo cinque anni questo fascicolo fu mandato al macero. Ci furono degli scioperi ma furono sempre ben controllati dalla parte sindacale, forse perché la parte sindacale riteneva ormai inevitabile rinunciare a queste aree come aree industriali, in realtà i lavoratori furono in qualche modo accontentati tutti o quasi tutti con prepensionamenti, con lavori socialmente utili, con la mobilità, ma soprattutto con i prepensionamenti, OMS ha speso uno sproposito di soldi che arrivavano dallo Stato per i prepensionamenti, non si è mai trovato un gruppo di lavoratori che protestasse perché è stato lasciato a piedi, in qualche modo l'operazione fu condotta anche abilmente da questo punto di vista, perché accontentò anche i lavoratori e gli scioperi ce ne furono, io li vissi in prima persona perché in quel periodo seguivo le vicende dell'OMSAV, gli scioperi ci furono, ci furono dei cortei cittadini, ma rispetto a quello che stava accadendo erano cose marginali, in realtà stava accadendo che l'ultima vera fabbrica di Savona stava sparendo sotto gli occhi di tutti, distrutta in tre anni, hanno sempre spiegato i lavoratori, io nel libro lo dico, che in fabbrica lavoro ce n'era, che non c'era la sensazione, non stavano a braccia concerte, non c'era la sensazione agli inizi, nel 91, appena l'OMSAV è partita, c'era lavoro, poi gradualmente il lavoro incominciò a mancare e loro effettivamente non sapevano cosa fare da mattina alla sera, c'è stata anche una fase di questo tipo, però per il primo anno lavoro ce n'era e non c'era assolutamente la sensazione che la fabbrica avesse già iniziato un percorso verso la sua fine, resto convinto che un'area come quella a filo di banchina di cui stiamo parlando, dove le navi possono accostare e caricare direttamente senza passaggi su gomma o attraverso ferrovia i prodotti, i manufatti, sia una ricchezza enorme per la città e non mi sono mai dato una spiegazione al fatto che nessun imprenditore vero all'epoca si fosse fatto vivo. Questa è la storia del triste epilogo delle partecipazioni statali e della siderurgia a Savona, del fallimento di una fabbrica, l'OMSAV, fallimento avvenuto secondo un'indagine della Procura della Repubblica d'Orologeria, provocato nel giro di pochissimi anni, per realizzare sulle aree che venivano così liberate una speculazione immobiliare che vedeva coinvolti gli stessi protagonisti, gli stessi proprietari dello stabilimento OMSAV, quindi mentre i proprietari ordivano questo fallimento, questo è ovviamente quello che pensa la Procura, gli stessi proprietari dell'OMSAV mettevano in piedi una società che acquistava le aree così liberate per realizzarci poi una operazione immobiliare, quindi a fini meramente speculativi.